10 fermate in più, un capolinea che si sposta da Bignami, al cuore di Monza, 8 chilometri più in là. Non solo il prolungamento fino a Bettola, dove nel 2017 aprirà una stazione della linea rossa, ma un intervento ben più importante. Serviranno 7 anni tra progetti e cantieri, ma adesso quell'infrastruttura è sulla carta, nelle pagine di uno studio di fattibilità che i comuni interessati hanno commissionato a EMM e che è costato 180 mila euro. L'assessore Maran fa il punto, ricordando da dove si è partiti e quale potrebbe essere l'impatto dell'opera sulla mobilità milanese e non solo. Intanto la M5 ha bisogno di un prolungamento per forza di cose, perché manca il deposito. Il nostro obiettivo è abbinare la costruzione del deposito anche ad un aumento di servizio e l'estensione verso nord, verso la Bignanza, ci sembra molto interessante perché potrebbe ridurre un traffico di accesso alla città molto rilevante e al tempo stesso collegare la prima e la terza città lombarda, l'ospedale San Gerardo, la villareale di Monza. Lo studio ipotizza che i lavori vengano cantierizzati in due tranche. La prima dovrebbe prevedere due fermate su Viale Fulvio Testi, quella di interscambio a Bettola appunto, una subito dopo e su questa tratta anche la costruzione del deposito di cui parlava Maran. Successivamente altre cinque fino alla villareale, passando per i punti chiave della città Brianzola. Il costo? In tutto un miliardo e due, un miliardo e tre. Tanti soldi insomma. Il ministro Del Rio si è detto pronto a fare la propria parte, l'opera è strategica e già sui tavoli giusti. Maran prospetta un'apertura ai privati, come già accaduto per l'attuale linea 5 e per la 4 ora in cantiere. Il sindaco di Monza, Roberto Scanagatti, il primo sponsor di questa svolta non si tira certo indietro, anzi. Dobbiamo continuare in questa opera di pressing nei confronti innanzitutto del governo, perché con lo studio di fattibilità inserisca nel documento di programmazione economica il finanziamento per realizzare il primo studio, che è lo studio preliminare e poi successivamente il coinvolgimento di altri enti a partire ovviamente dalla regione Lombardia.